ciao a tutti i video amatori le video matrice di senza fissa dimora benvenuti in questo nuovo video oggi con voi volevo parlarvi un po di questo lascia passare verde e lascia passare europeo pass sanitario pass verde green pass o come come diavolo volete chiamarlo volevo parlarne con voi però in un'ottica un po diversa diciamo volevo fare della speculazione ed è per questo che vi dico che tutto quello che sentirete in questo video è pura speculazione non è la verità è solo una mia maniera di unire un po i puntini di prendere un po elementi diversi diversificati che vengono da fonti ufficiali o meno ufficiali e metterli un po insieme per avere una visione diciamo un po più più globale un po più dall'alto e anche un po più magari a lungo termine per quello che riguarda appunto l'applicazione l'applicabilità e le conseguenze di questo lascia passare verde vi faccio un esempio di ciò che per me vuol dire unire puntini allora secondo fonti ufficiali e a circa metà maggio la comunità europea udite udite ha fatto un nuovo ordine di dosi così si chiamano adesso magari in commemorazione di altri tempi degli anni 80 dove diciamo le dosi erano ben altre la comunità europea ha voluto pubblicare ha voluto dire all'europa intera che ha ordinato da una big pharma non vi dirò quale ma inizia per p f e finisce con r ben udite udite un miliardo e 800 800 milioni di dosi questo come nuovo ordine cosa possiamo dedurne il calcolo è semplice guardando sui siti ufficiali la comunità europea 440 milioni di abitanti di cui se ne può escludere una buona fetta tipo una sessantina di milioni che sono tra i 0 e i 10 anni se facessimo anche tra i 0 e i 18 ma vedendo che poi non tutti gli stati tipo la francia hanno scelto anche di forare scusate anche da 18 a 12 anni mentre quasi tutti gli altri no quindi diciamo che potremmo benissimo escluderne una settantina di milioni per arrivare a cifra tonda mettiamocene 10 di persone che per una ragione per l'altra non possono essere forate quindi un'ottantina di milioni 440 meno 80 fa circa 360 cioè 360 milioni di persone a cui vengono destinate un miliardo e 800 mila dosi la media è presto detta si tratta di cinque dosi per persona quindi preparatevi a tutti quelli che hanno scelto di farsi forare perché la cosa andrà per le lunghe questo è il mio modo di unire puntini poi posso benissimo sbagliarmi e infatti potrebbe benissimo verificarsi che ci siano persone che decidono di farsi 20 30 40 50 dosi a seconda appunto come negli anni 80 della loro frequentazione di locali persone delle compagnie brutte compagnie che frequentano o belle compagnie che frequentano questo dipende da ognuno di loro e non dipende da me dalla mia matematica ma vediamo un po da vicino quali e quante conseguenze può avere l'applicazione di questo nuovo lascia passare può darsi che stiamo andando verso una società di controllo di massa direi di sì può darsi che con questo lascia passare poi per facilitare i controlli che sicuramente nel primo periodo di applicazione saranno la parte più difficile anche perché sarà effettuata da persone quindi con un costo fisico sia per chi i commercianti che decidono spontaneamente di controllare per quelli che invece saranno obbligati per le strutture ospedaliere insomma per tutte queste grandi o piccole o grandissime imprese avrà dei costi controllare queste controllare il passaggio delle persone come si può abbattere i costi beh è abbastanza facile fare appunto uno più uno e dire che si potrà utilizzare l'intervento della tecnologia o della biotecnologia della biometrica nel nello specifico cioè ad esempio la prima cosa che viene da pensare è un controllo numerico tipo metro cioè si passerà una alla volta davanti alle entrate di ipermercati cinema teatri fiere chi più ne ha più ne metta una alla volta si passerà col proprio telefonino o con un cartaceo e attraverso una scansione abbastanza rapida e in dolore si potrà entrare o meno a seconda che l'applicazione debita o il codice qr debito a registrazione del vostro stato sanitario darà il lascia passare cioè dirà sì questa persona è a giorno con le forature e con i controlli la seconda versione che diciamo è un po più avveneristica ma non tanto ed è fattibile è solo una questione di investimenti di spesa per chi sceglierà è il controllo facciale infatti è dato sapere che all'interno di questo progetto cioè di fare entrare un codice qr nella nostra mentalità quindi una diffusione dei propri dati sanitari c'è anche la volontà che è già in atto per quello che riguarda quasi tutte le apparecchiature cioè i telefonini che noi abbiamo sono in grado di fare uno scanner facciale che noi vogliamo no hanno tutti quelli che vedete con due telecamere ce li hanno a volte anche nelle nella parte che è rivolta verso di noi quindi hanno due telecamere che permettono a grandi linee dette in soldoni di fare una scansione 3d le due telecamere non vengono messe per bellezza ma vengono messe in gran parte per questa funzione e di conseguenza una scansione 3d ad alta risoluzione se poi ci vogliamo mettere che la cosiddetta id un'identità digitale è alle porte se non ha le portissime uno più uno più uno fa tre per tutti tranne che per alcuni io può darsi che mi sbaglio ripeto la queste sono mie pure speculazione ma è molto semplice vedere ad oggi un disegno un po più definito senza poi unire neanche tutti i puntini ciò cosa significa che tramite un controllo facciale tramite a un controllo numerico semplicemente volontario non volontario la direzione che si prende con la me con la messa in atto di queste normative di questo pass a livello europeo sia per rispostamenti interni che per quelli esterni è quella di una società tecnologizzata quella che viene anche volgarmente detta una dittatura sanitaria però con l'utilizzo di big data con l'utilizzo di tutte le parecchiature che fino a dieci anni fa non erano neanche nei sogni di qualche complottista e invece ad oggi sono tutti gli effetti fattibili e alla portata di chiunque la cosa che mi fa mal pensare è anche il fatto che tutti questi politici si preoccupano di fare decreti contro decreti dei cretini di pcm o nelle varie ed eventuali versioni francesi spagnoli tedesche eccetera eccetera ma nessuno di loro si è ancora azzardato a dire se e quando finirà tutto questo non sono stati mai posti fattori dei numeri delle soglie per uscire da questa crisi sono a tutto sotto tutti gli aspetti state fatte discusse e non discusse ma messe per entrare nella crisi quindi si è detto più e più volte si è parlato di tutti i valori quindi da numeri di letti da occupazione di letti da percentuali di diffusione del virus da contagiosità da numeri di casi tutti questi qui hanno dei fattori che tutti sappiamo ben determinati ma come controprova non ve ne è per uscirne quindi sostanzialmente a entrarci in una situazione di crisi è stato molto facile a uscirne sembra quasi ad oggi un miraggio lontano e impossibile almeno chi deciderà quando sono gli stessi che hanno deciso come siamo entrati e ma da non sottovalutare riguardando riguardante specifico il pass sanitario è il fatto da come viene rilasciato cioè sappiamo tutti che è per una guarigione sappiamo solo dovuta test pcr quindi non una guarigione ufficiale non la presenza di un'immunità sistemica quindi se noi facciamo un'analisi di laboratorio che ci dice che abbiamo all'interno sviluppato un'immunità che quindi abbiamo avuto diciamo questa malattia molto tempo fa e siamo immuni non vale mentre vale un test pcr vecchio di sei mesi che quindi in ogni caso non non ne garantisce un'immunità vera sanguigna ma questo sembra non importare alla comunità europea che detta le regole di questa follia collettiva rientra nella nel passo una foratura completa ma chi decide che questa fu come viene fatta questa foratura e da chi chi decide sono le stesse fabbriche che mettono in circolazione le forature le dosi quindi che ci voglia una dose 2 3 4 5 6 7 1 ogni 15 giorni 1 all'anno 1 in sei mesi non siamo noi a deciderlo ma tantomeno non è la politica la politica ha messo in atto tutto ciò ma la politica si è totalmente chiamata fuori per quello che riguarda la gestione quindi sostanzialmente sarà una di quelle tre grandi ditte che non sto a nominare che comunque una inizia per a l'altra inizia per pf l'altra ha una doppia j come simbolo che decideranno se voi potete entrare o no al cinema se voi potete prendere un mezzo pubblico a lunga percorrenza se voi potete andare in un ristorante se voi potete andare in un centro commerciale o se voi addirittura potete andare in un ospedale non lo decide il governo non lo decide un politico non lo decide il vostro stato di salute lo decide un'industria farmaceutica privata stessa cosa da settembre lo deciderà un'industria farmaceutica privata se i vostri vostri figli possono o no avere diritto alla scolarizzazione se saranno obbligati a una didattica a distanza se possono andare in piscina se possono andare in palestra se possono fare attività di gruppo sport di gruppo sport di contatto se voi potete andare uscire dopo a una determinata ora non sarete voi a decidere ma tutto ciò in la nostra politica ha abdicato totalmente e ha de responsabilizzato la politica stessa affibbiando tutta la responsabilità a degli enti terzi cioè delle big pharma ultimo punto saliente quali dati entreranno a far parte del circuito controllato dalle varie applicazioni che vengono comunque consigliate a volte obbligate a essere scaricate per utilizzare diciamo con più comodità questo codice qr che viene rilasciato dal momento che voi decidete per la foratura o per un test eccetera eccetera infatti il cartaceo si c'è esiste la possibilità ma in gran parte si promuove l'uso di applicazioni ufficiali o ufficiose perché comunque la gestione dei dati di queste applicazioni sappiamo benissimo che non è diretta non è direttamente controllata dai governi ma è comunque affidata a terzi in tutti gli stati e quindi le applicazioni potranno comunque usare i vostri dati e avere accesso all'interno del vostro telefonino del vostro computer o di vostro di qualsiasi supporto voi userete per appunto scaricare al suo interno o scannerizzare al suo interno il codice qr eventuale che voi abbiate o no tutti questi dati sono comunque soggetti a un trasporto da un'applicazione all'altra da avranno appunto accesso ad altre applicazioni che si trovano all'interno ad altri sensori che si trovano all'interno faccio alcuni esempi sempre pura speculazione non prendete per vero quello che vi dico assolutamente è tutto frutto della mia fantasia la posizione gps vostra ormai non è più un segreto neanche per google quindi google ha già da tempo dato via libera questo controllo la posizione gps viene anche direttamente controllata dal bluetooth nel caso che voi vi troviate all'interno di un edificio dove il gps diciamo non ha una precisione sufficiente il bluetooth ce l'ha prendendo come punto di riferimento agli altri bluetooth che si trovano all'interno quindi avranno una mappatura esatta in tempo reale di tutti gli apparecchi che si trovano all'interno di un determinato centro commerciale cinema teatro di maniera di sapere se voi siete stati più o meno vicini a un altro apparecchio quanto tempo ci siete stati cosa avete fatto e di che cosa avete parlato fino a sapere i vostri respiri la vostra temperatura corporea il vostro battito cardiaco tutti questi sensori sono già presenti su ogni telefonino avendo il telefonino a distanza molto ravvicinata del vostro corpo tutto ciò è molto facile da avere e le applicazioni che ricontrollano dovrebbero controllare la vostra salute ne sono l'esempio tutti i documenti di identità quindi il vostro indirizzo il vostro atto di nascita dove siete nati dove avete vissuto quali indirizzo avete cambiato i vostri certificati il comune di appartenenza la vostra età vostro stato di salute il vostro stato sociale la frequenza delle visite cioè da chi andate quante volte ci andate quanto tempo ci state stessa cosa viene a livello telefonico quindi la frequenza delle telefonate chi chiamate quanto tempo ci state al telefono e quante volte le chiamate stessa cosa per tutti i farmaci incrociando semplicemente il codice fiscale o una qualsiasi altra targhetta sanitaria che è presente su ogni nazione d'europa sapranno perfettamente se voi andate in farmacia che cosa comprate quindi quali sono le vostre problematiche di salute cosa comprate abitudinariamente cosa no il vostro la vostra tipologia di contratto di lavoro e si finirà con i dati che sono i più ricercati in rete quindi più facili da ottenere che sono tutto ciò che riguarda i vostri acquisti a partire da quale banca su quale banche vi appoggiate su quale carte di credito dove andate a fare la spesa cosa siete abituati a comprare direttamente cosa siete abituati a comprare in rete quali tipologie di acquisti fate quanto acquistate con che frequenza dal di lì si scenderà tutto il resto tutti i dati che vi ho detto fino adesso sono incrociabili l'uno l'altro per diciamo così creare dei profili che siano profili di acquisto o che siano profili di salute è la stessa cosa basta mettere tutti questi dati uno di fianco all'altro e farli lavorare da una cosiddetta intelligenza artificiale che altro non è un programma fatto dagli uomini semplicemente per delimitare dei punti e per saperne di più sul vostro sulla vostra tipologia di persone tutto ciò è materiale che si può trovare all'interno del vostro telefono e che applicazioni più l'applicazione diciamo è potente quindi più l'applicazione più ha diritto a avere date anche dalle altre applicazioni quindi più soldi ci sono all'interno di questa applicazione per essere creata più chi la crea e chi poi la va a installare su certi apparecchi ha delle garanzie rispetto agli stessi produttori degli apparecchi concludo dicendo che va visto l'arrivo di questo pass non in sé per sé come essere un pro vax o un no vax che per me è la cosa che è diventata estremamente banale è diventata anche estremamente stupido discutere perché poi io credo che fondamentalmente la stragrande maggioranza delle persone sia contro all'applicazione di questo pass chi non lo è contro è perché ancora non ha capito di cosa si tratta non ha capito come andrà a modificare la nostra società e non ha soprattutto capito che non è una cosa temporanea ma che ha tutta l'area di essere una cosa definitiva lo dico con non col terrore negli occhi o con l'ansia assolutamente il contrario la consapevolezza di sapere che diventerà definitivo è anche comunque dovuto al fatto che era già nell'aria da molti anni che in maniera subito la succedeva già gran parte delle cose che vi ho raccontato in questo video non sono novità di adesso si sapeva già prima che i nostri big data vengono venduti incrociati in tutte le maniere adesso c'è l'aspetto della salute che rende un po' più diciamo preoccupante l'uso di questi big data l'utilizzo da parte di terzi e da parte di industrie private di questi big data soprattutto se queste industrie private sono in netto conflitto di interessi per quello che riguarda la gestione affidarci a chi crea il problema per risolvere il problema è la più grande fesseria che possiamo fare stessa cosa non preoccuparci di un conflitto di interesse di persone che sono politicamente influenti che sono politicamente nelle alte cariche dello stato dovrebbe essere una cosa che dai prossimi anni dovrebbe diventare fonte di discussione e dovrebbe diventare soprattutto un punto fisso di almeno chi entra come nuova struttura politica come nuovo personaggio politico che sia pulito da questo lato che non si ponga già lui stesso in conflitto di interesse con una grande multinazionale o con una certa tipologia di sistema diciamo questa era solo la riflessione che volevo condividere con voi spero che il video vi sia piaciuto vi auguro una buona visione degli altri video sul mio canale iscrivetevi e alla prossima iscrivetevi e alla prossima